Continuiamo il nostro giro di interviste andando a sentire una voce a livello di FIPAV regionale un torneo di FIPAV riservato agli under 13 che sicuramente è stato anche importante dal punto di vista dei risultati Assolutamente sì, una grande manifestazione, ben riuscita ottime anche le atlete in una cornice, in un panorama delle isole che ovviamente abbiamo ripetuto visto il successo dell'anno scorso con il beach a Vulcano e anche un'altra finale regionale qui a Libari e complimenti ovviamente vanno anche al club Benicuris per la totale e perfetta organizzazione Pallavolo che in queste occasioni non è soltanto sport ma è promozione ma è anche turismo Ci abbiamo scommesso, ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato tanto e così è stato coniugare ovviamente lo sport al turismo ovviamente un colluvio perfetto e ben riuscito grande soddisfazione credo anche per la pubblica amministrazione abbiamo rendito gli hotel anche con i genitori quindi si crea quell'indotto che sempre abbiamo scommesso e oggi ci siamo riusciti Che spazio c'è per la crescita della Pallavolo in Sicilia? Astruamente tanta i nomi ovviamente ci danno ragione ed ecco il motivo dei nostri sforzi si può fare tanto e si può migliorare ancora tanto Vuole aggiungere qualcosa di particolare a conclusione di questa intervista? Nulla, solamente ringrazio la pubblica amministrazione l'ingegnere Gandemane, il chiamamento di Tudis a voi giornalisti e ci rivediamo il prossimo anno